L'estensione Trimble Scan Essential installata in SketchUp ci permette di importare nuvole di punti e quindi di creare una modellazione direttamente all'interno dello spazio 3D. Vediamo qui le varie tipo di configurazioni grafiche che si possono effettuare legate al diametro dei punti, il tipo di colore o di shading, di trasparenze che ci permette di vedere la nuvola in vari modi e quindi di costruire un modello tridimensionale utilizzando piani di sezione, section box e vari altri strumenti specifici proprio per la visualizzazione della nuvola in porzioni o in appunto sezioni come quella che si sta vedendo ora che ci permettono di ricostruire i volumi e di verificare la correttezza del modello avendo a disposizione praticamente all'interno del modello 3D una copia di quello che era l'edificio sull'otto. Tutto questo poi diventa presentazione, tavole, esportazioni sotto forma di computo, ma perché no anche rendering, realtà virtuale e molto altro che si può estrapolare da un modello 3D con SketchUp. Inoltre in layout, vediamo qui un esempio di una tavola, è possibile visualizzare anche la nuvola direttamente con tutto il dettaglio che era stato rilevato sul campo.